salve a tutti io sono Paolo Quadrino eh questa è la rubrica il punto per la rivista orizzonte scuola e oggi ho il piacere di avere come ospite Nicola Gratteri magistrato e saggista che saluto buongiorno e la ringrazio per aver accettato il nostro il nostro invito ehm giudice Gratteri ehm io ho ho acquistato tra l'altro e letto molto volentieri la sua ultima pubblicazione eh che ha di cui è autore insieme ad Antonio Nicaso l'ulteriore eh pubblicazione l'ennesima eh su ehm sul tema del delle delle mafie e il titolo è non chiamate gli eroi è pubblicato da Mondatori Ragazzi tra l'altro e eh ho voluto cogliere questa occasione ehm perché il libro lo trovo molto interessante soprattutto per i ragazzi siccome da quest'anno è tornato l'insegnamento dell'educazione civica e uno dei punti indicati dalla dalla legge è eh quello della legalità l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie che già eh gli insegnanti nelle scuole si svolge in moltissime attività ehm però ecco volevo sapere da lei cosa possa cosa vuole dire agli insegnanti che eh affrontano questa questo tema così importante. Allora noi intanto vi intanto vi ringrazio per per l'invito perché a me è importante io credo nella sostanza della mia seconda attività è quella di parlare ragazzi io ho iniziato ad andare nelle scuole eh eh quando già più di trent'anni fa ormai che quando ancora io non ero di moda quando ancora non mi seguivano barra inseguivano le telecamere eh perché ho sempre creduto eh in nel nell'idea che eh andare a parlare nelle scuole ragazzi non è mai tempo perso eh l'unica cosa che ho affinato nel corso degli anni è quella di andare nelle scuole di pomeriggio perché di mattina i ragazzi devono bisogna insegnare ai ragazzi italiano storia geografia matematica filosofia perché già sono poche le ore di scuola datate ai ragazzi arriviamo noi eh con con la cosiddetta educazione legalità e purtroppo eh devo dire che molte volte i dirigenti scolastici invitano persone poco improbabili cioè che non dovrebbero entrare nelle scuole a parlare ai ragazzi perché io ho ascoltato anche gente che eh eh spiegava ai ragazzi che l'uso della marijuana non fa male eh poi mi sono arrabbiato detto la dirigente scolastica ma lei si rende conto cosa ha combinato stamattina lei si rende conto che eh i genitori li affidano ai figli e lei fa eh in vita per salire tra l'altro era un senatore della Repubblica Italiana eh che spiegava ai ragazzi che io io spiegavo quali erano gli effetti della della del principio dell'HTC della eh degli effetti della marijuana sulla sulla corteccia cerebrale eh la parte del cervello dove si è nella memoria e questo gli raccontava eh che la marijuana non fa male e quindi intanto dico agli insegnanti degli scolastici attenzione a chi invitate a scuola c'è molta gente che si improvvisa che si inventa un mestiere eh di per parlare di legalità gente dei noi diremmo volgarmente degli scappati scappati di casa eh che che si inventano intellettuali che si inventano cioè invitate gente che ha fatto qualcosa nella vita e che può raccontare una storia perché i ragazzi hanno bisogno di coerenza hanno il loro ci valutano ci pesano in base a ciò che eh abbiamo fatto nella vita non a quello che andiamo a dire in quel momento eh parlare ragazzi non è mai tempo perso io penso che anche riuscire a a mettere una testa il talo del dubbio eh il al venti per cento dei presenti ragazzi è sempre un grandissimo successo eh purtroppo la scuola oggi è eh la scuola non oggi ormai da decenni eh i governi che sono succeduti non hanno involuto non hanno voluto investire in istruzione eh perché investire in istruzione eh non 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 lo si può dire se eh gli insegnanti sono i peggio pagati d'Europa eh dopo i greci e gli insegnanti sono i i nuovi poveri e in una società consumistica dove si è valutato in base a ciò che si ha e non in base a ciò che si è quando i ragazzi vedono arrivare l'insegnante con la banda con la Clio con la Polo e poi di fronte c'è il bar c'è il 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 eh il tizio semi analfabeta che è vestito firmato e luccicante con un credo siciliano col sub da ottanta mila euro che a malappena sa con i vari verbi eh è pessimo insegnamento eh dal punto di vista eh dei dei del risultato visto che i ragazzi eh inizialmente il primo impatto si ferma in superficie allora noi avremmo bisogno di una scuola dove intanto eh gli insegnanti vengono ben pagati ma non è solo un fatto economico di vivere decorosamente ma anche un fatto di credibilità e cioè la qualità il servizio importante e delicato che gli insegnanti portano nella formazione delle future generazioni non apprezzo eh perché un attimo solo un minuto dopo la famiglia voi lo sapete che ve lo racconto io che ve lo spiego io queste cose un attimo dopo eh c'è la scuola e poi eh avremo bisogno bisogno di altri insegnanti che di pomeriggio tengono impegnati i ragazzi a a discutere a vedere un film a stare assieme a impegnare a imparare a relazionarsi a impegnarsi a vivere di relazioni parlando purtroppo i ragazzi tornano a casa se va bene si chiudono la stanzetta e diventano figli di internet o peggio se non ci sono genitori che che hanno la possibilità o l'intelligenza di seguirli eh diventano figli della strada e quindi io immagino una scuola dove i i ragazzi possono stare più passibili dentro la scuola e meno possibile a casa eh in aree eh tipo ad alto senso dal mafioso dove c'è devianza e questo dovrebbe è quello che dovrebbe fare eh che dovrebbe fare lo Stato anche il Stato con gli enti locali con le regioni e la provincia visto che certe volte hanno più soldi eh da 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 investire perché eh parlo tutti ci riempiamo la bocca di cultura e cultura io dico attenzione non facciamo un'insalata prima di parlare di cultura dobbiamo parlare di istruzione qui c'è gente che non sa con i vari verbi qui c'è gente che non sa parlare di lingua italiana e cioè questi due anni eh dico anno e mezzo due anni ormai scolastici di di lockdown sono un disastro saranno un disastro per queste generazioni qui sono ragazzi segnati semi analfabeti eh diplomati senza senza aver mai scritto un tema eh questa è una grande preoccupazione io mi auguro che si pensi a ad investire in modo massiccio nei prossimi anni per cercare di recuperare un po' di istruzione cioè prima della cultura viene l'istruzione l'istruzione è lo strumento per approcciarsi alla cultura perché se non ci sono i elementi se io non so guidare la macchina eh è inutile che mi dai che mi che mi dai la Ferrari che mi parli eh di 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 alta filosofia o mi parli di alto ragionamento poi c'è gente che non sa leggere. Giudice vedo che ha una no 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 va benissimo e sono sicuro che gli insegnanti che ci seguono apprezzeranno queste queste sue opinioni e e vedo che ha una visione eh veramente eh diretta al futuro e e e ben chiara di quello che è il sistema dell'istruzione. Eh io prendo spunto mh invece da da dalle storie che racconta nel 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 suo libro storie di donne e uomini anche ragazzi no eh che hanno sacrificato la loro vita ehm per per combattere per combattere la mafia eh uno di questi è sicuramente Pino eh Don Pino Puglisi e c'è una frase che lui eh che lei ha ricordato anche in libro si può fare qualcosa e se ognuno lo fa allora si può fare molto. Ecco come come i ragazzi possono sentirsi mh attivi partecipi e e attori della del contrasto alle mafie? Intanto i ragazzi eh devono avere dei punti di riferimento. Se non la famiglia devono essere gli insegnanti. Io dico sempre ai ragazzi cercate di individuare tra i vostri insegnanti eh eh quelli che quelli che più eh vi 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 ispirano fiducia cioè quelli che magari vi fanno un po' paura, quelli più esigenti, quelli che vi carcano di compiti eh cercate eh quelli ancora si emozionano ad insegnare, quelli ancora sentono la l'importanza dell'istruzione. Quindi eh cercate di creare un filo con gli insegnanti, cercate di andare oltre la lezione e vedrete che troverete sicuramente ascolto, sicuramente eh piacere perché per fare per fare l'insegnante eh eh bisogna per farlo bene eh bisogna emozionarsi, bisogna eh sentire che eh dentro c'è qualcosa che si vuole dare, che si vuole trasmettere ai ragazzi e ce ne sono e ce ne sono tanti, tantissimi, io conosco tantissimi insegnanti e quindi io eh invito sempre i ragazzi a a a rivolgersi e a parlare con l'insegnante, andare oltre quella che l'oretta eh i cinquanta minuti di lezione. Ehm un'altra testimonianza è quella di eh Giuseppe Impastato. Ehm lui ho preso questo esempio perché ehm aveva una radio no? Nella quale comunicava con il territorio eccetera. Ecco molte scuole anche hanno vari mezzi di comunicazione, anche radio, web radio e quant'altro. Sì. Ecco per esempio come possono incidere questi strumenti? Lei ha ha scritto anche su questo, sul digitale, su come la le mafie no? Lavorano anche con questi strumenti eccetera. Ma ecco invece le scuole come possono diventare protagoniste nel territorio attraverso questi strumenti di comunicazione? Ma intanto eh per una una scuola per una scuola gestire una radio è una cosa molto impegnativa. Io lo io lo so perché a sedici anni avevo la prima radio privata eh della zona della Locride. A Gerace? Quindi conosco bene. Ah ecco. A Gerace si aveva una radio. Già con eh con due parti di potenza si avevamo un raggio di 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 cento chilometri quadrati. Beh bene bene. Quindi molto allora c'erano poche radio, la rete era libera e e tenere una radio anche per tre quattro ore al giorno era molto impegnativa eh perché richiede costanza, richiede ricambio e e stanca eh dal punto di vista organizzativo e fisico. Dal punto di vista economico no, costa pochissimo e comprare gli strumenti per avere una radio eh già con meno di mille euro si fa una radio eh ovviamente a livello artigianale. E allora però eh la radio con mezzo di un mezzo di comunicazione è importante, fortissimo eh la radio raggiunge raggiunge tanti eh se è ben fatta, se è ben strutturata può dare dei messaggi molto importanti, molto ma serve anche secondo me serve anche a coinvolgere i ragazzi, a fare gruppo, a fare squadra eh cioè coinvolgere tanti ragazzi per dire no tu tu dobbiamo fare una trasmissione quindi cinque, sei ragazzi, dieci ragazzi pensano, si riuniscono a a a decidere eh la la scaletta di una trasmissione e eh è importante non solo perché li li costringe a pensare ma soprattutto a me a me piace, a me preme molto le relazioni. La cosa fondamentale è quella di cercare di distogliere i i i bambini, i ragazzi da questo cavolo di telefonino che sono attaccati lì incollati. Purtroppo i genitori gli permettono anche mentre mangiano di 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 tenere il tavolino eh il 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 telefonino sul tavolo eh sulla tavola e questo è sbagliato eh dobbiamo cercare di tagliare questo cordone ombelicale cioè non è possibile stare la mattina sera collegati su whatsapp o su altro eh su su facebook o su altro eh eh fare anche fare radio e può essere un bel motivo per io penso che sia preminente fondamentale, importante, oggi il problema è che i ragazzi non parlano tra di loro o si parlano col telefonino anche se stanno in questa stanza con whatsapp. Non è possibile questo cioè noi dobbiamo eh educare all'uso del telefonino che è un problema che può essere anche una dipendenza cioè noi dobbiamo mettere i ragazzi in una stanza e farli stare un po' di ore al giorno senza telefonino anche e quindi l'idea di una radio di costruire una radio e di farla gestire dai ragazzi è un modo per per farli per educarvi a stare assieme a parlarsi a relazionarsi ad avere idee questo è che manca e cioè i ragazzi sono muti i ragazzi non si parlano. Ehm è interessantissima questa queste queste osservazioni e però volevo aggiungere ecco quest'altra schermata di di una donna invece no? Come testimonianza all'interno del suo libro nella quale la figlia credo di Lea Garofalo eh invece ha detto della madre orgogliosa testimone di giustizia. Ultimamente si è anche parlato molto di questo tema dei collaboratori di giustizia eh di tematiche importanti eh difficili anche. Ecco su questo lei cosa ci può dire? Ma eh eh io dico che la legge sui collaboratori di giustizia e sui testimoni di giustizia è una legge importante fondamentale nel contrasto alle mafie. Eh si è molto speculato sul dato sul fatto che Brusca è uscito dopo ventocinque anni di carcere e la legge eh sui collaboratori di giustizia non prevede il pentimento. Prevede che Tizio che eh che ha commesso dei reati se non ha commetteva dei reati non sarebbe stato collaboratore di giustizia. Quindi non abbiamo bisogno di un salesiano. Abbiamo bisogno di un mafioso, di un pregiudicato che a un certo punto decide di collaborare, di un delinquente che a un certo punto decide di collaborare. E quindi più cose sa meglio è. Eh io eh dico che dopo venticinque anni è giusto che Brusca eh sia uscito dal carcere perché eh se non ci fosse questa prospettiva non avremmo grandi mafiosi, grandi eh boss eh con l'amore di giustizia quindi noi forse oggi non avremmo scoperto nemmeno la tragedia di Capaci e altro. Quella che ha attinto che purtroppo Falcone eh sua moglie Morvillo e i cinque uomini di scorta. Eh per quanto riguarda lei è garofalo, giusto testimone di giustizia perché eh lei non aveva commesso reati, lei era 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 è stata vittima inizialmente dell'amore eh per questo per questo uomo, per questo marito che la la coinvolta, la plagiata, lei sono scappati eh per amore eh e poi in realtà questa donna questa è una bellissima donna è diventata eh una donna schiava eh della della gelosia del morito del del maschilismo del marito eh del del marito padrone e che oltre a questo commette variati e eh le agarofalo per amore della figlia della bambina dice non voglio che mia figlia cresca voglio che cresca in un altro ambiente voglio che sia una donna libera eh che eh che abbia eh viva in un mondo bello civile colorato non che stia in questo grigiore in questo puzzo eh dell'andrangheta e quindi si è lasciata scappata dal marito e poi come sempre capita nei femminicidi eh l'ultimo appuntamento quello del chiarimento è fatale. infatti io la cosa che consiglio sempre quando finisce una storia d'amore finisce punto non andate mai all'appuntamento del chiarimento quando vi dico no ma per l'ultima volta ti prego dobbiamo chiarire alcune cose eccetera eccetera quello è l'ultimo appuntamento perché lì e lì quando lui capisce proprio nell'ultimo appuntamento di tutto il chiarimento che è finita veramente e che è che ha perso il possesso su quella donna quella donna nel 99 per cento di casi uscirà da quella casa morta uccisa quindi non andate mai all'ultimo appuntamento è tutto chiaro non c'è niente da chiarire quando finisce l'amore finisce il rapporto e soprattutto quando un uomo vi alza le mani una volta vi picchi una volta scappate non tornate più assieme eh se lui vi ha picchiato non vi ama eh non vi ama più o forse non vi ha amato ma non c'è niente da chiarire venite solo andare più lontano possibile eh io dice ne approfitto però in una battuta lei che conosce molto bene ovviamente il il mondo della dell'andrangheta ma il ruolo delle donne come è cambiato all'interno di queste organizzazioni ehm guardi le donne allora le donne eh prima noi negli anni settanta ottanta le vedevamo soprattutto come vivandiere e venivano utilizzate per portare da mangiare in montagna ai latitanti o il mangiare per i sequestratori di persona venivano utilizzate per portare le imbasciate in a in carcere oggi eh vediamo le donne sempre più protagoniste eh soprattutto nel traffico di droga eh ci vediamo eh numericamente parlando sempre più donne coinvolte nel traffico di droga quindi donne che incominciano ad avere un ruolo attivo o anche nel riciclaggio o anche spesso come prestanome di attività commerciale di attività imprenditoriale ehm bene ci abbiamo eh verso la conclusione di questa nostra chiacchierata io ho il libro qui cartaceo ma ho ho acquistato anche la versione in ebook perché c'è anche questa possibilità e molto interessante anzi tra l'altro ho visto oggi un suo tweet è in ristampa quindi eh mi fa piacere che abbia questo noi non pretevevamo eh questo successo no invece invece è giustificatissimo perché sono diverse storie poi ripeto molto adatte anche ad una lettura per ragazzi dalle dalle secondarie di primo grado in su o meglio per tutti comunque e quindi eh mi fa piacere di questo di questo successo e però nella nelle parti finali molto interessante ci sono anche delle ehm sitografie indicazioni di sitografie indicazioni di libri articoli ma ci sono anche delle parole chiave da conoscere ehm ecco quale ce ne racconti ce ne racconti ce ne indica una sua la sua libera scelta ma noi eh abbiamo pensato eh verso la fine di fare una specie di vocabolario dei termini di quello che serve eh per un approccio eh alla conoscenza della delle mafie della della e dell'antimafia cioè noi abbiamo eh tutti i termini che eh vengono usati eh quando si parla di storie si raccontano storie si si ascolta un giornale un telegiornale eh per noi eh è è è importante che i giovani incominciano ad apriuparsi ad apriuparsi di concetti di termini eh qui vedo nella nella slide antimafia, paide, gabbelloto, mertamax, processo, stida sono tutti eh parole che vengono spiegate ovviamente in modo sintetico perché danno l'idea, la faida. La faida cos'è? È una lotta tra eh all'interno della stessa struttura, all'interno dello stesso locale di Indrangheta, della stessa organizzazione eh due blocchi si si uccidono tra di loro. Eh queste faide sono come eh ad esempio sono come un vulcano. stanno otto, dieci anni, cinquant'anni spenti, fermi, a un certo punto il vulcano esplode. E la stessa cosa è la faida. Le faide in genere eh finiscono in due modi. O quando si distrugge una delle due famiglie, dei blocchi di famiglia oppure quando eh si suggeglie la faida e finisce con un matrimonio. con un matrimonio combinato tra un rampollo di una famiglia, un rampollo dell'altra famiglia fanno eh si si sposano e suggeglie e suggeglie la pace. No no infatti mi faceva piacere ecco darle questo spunto per sottolineare questo lessico che giovani probabilmente le giovani generazioni conoscono conoscono meno. Eh in un libro di di educazione civica pubblicato da una scuola è stato anche segnalato il suo libro ovviamente per eh tra tra le letture consigliate. Qui stiamo vedendo quelli che sono dall'indice i le i testimoni no? Eh del eh di questa lotta alla mafia e eh lei parafrasando appunto quello che aveva detto il giudice Falcone non chiamate l'eroe. Ecco per chiudere ma ci viene tanto spontaneo chiamarli eroi ma altrimenti come dovremmo chiamarli giudice? Ma sono molti molti di questi eh di questi eh uccisi eh sono state delle persone nella vita rette, corrette, coerenti, con le loro idee, con i loro principi, con il loro orgoglio, con la loro forza. Sono diventati eroi poi il loro malgrado. eh ma eh eh leggendo le loro storie si tratta di persone straordinarie nella loro ordinarietà, nel loro essere persone coerenti con i principi, i valori e poi eh proprio per questa questa grande linearità sono state poi uccisi perché di ostacolo al percorso eh della dello strapotere delle delle mafie ma poi alla fine abbiamo visto che queste morti sono diventati un boomerang per le mafie perché la cosa straordinaria che è accaduto è che adesso giovani che non hanno conosciuto che quando è morto Falcone e Borsellino questi ragazzi non erano nemmeno nati eppure eh eh ne parlano, sentono propri eh questi 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 personaggi, diventano punti di riferimento, diventano soggetti eh eh da guardare come guida e questa è la cosa più bella, il grande patrimonio che ci hanno lasciato questi 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 morti. ehm abbiamo voluto inserire anche delle storie poco conosciute, cioè abbiamo messo delle storie conosciute di Falcone, Borsellino, Livatino, Pino Pugliesi, però abbiamo messo delle storie anche di calabresi, di vittime di Calabria, come esempio Roccogatto, un mugnaio di gioiosa ionica che si è rifiutato allo strapotere della mafia, in sostanza era stato ucciso in un conflitto a fuoco tra il capitano Niglio e il eh capitano Carabinieri Niglio e il capo mafia di gioiosa ionica Ursino e eh eh e questo il la domenica successiva eh l'andrangheta aveva deciso di imporre il lutto cittadino quindi il mercato non si doveva fare eh e tutte le serrande abbassate e lui si è rifiutato di abbassare le serrande non solo ha dato il caserme e ha denunciato eh le persone che erano che erano andate a trovarlo per rimporgli e di chiudere le sale ginesche eh lui per questo sapeva eh che stava per morire infatti viaggiava armato ma non ha avuto il tempo di 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 salvarsi anche se aveva un fucile sul sedile anteriore destro è morto eh sapendo di morire ma non ha piegato la testa e questa storia mhm cioè adesso ve l'ho sintetizzata però noi eh raccontiamo molti aneddoti e questa storia invece eh serve a capire che esistono uomini semplici di grandi valori di grandi idee che tengono la schiena dritta e non si piegano sul potere di di delle mafie anche sapendo di 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 morire e questo storia di Rocco Gatto va ricordata eh va onorata alla memoria e io per scrivere questa storia sono andato a trovare anche la famiglia i familiari gli eredi persone grandi tutti sono rimasti tutti grandi lavoratori persone per bene che ricordano con orgoglio questo grande uomo benissimo eh giudice io la ringrazio doppiamente sia per la sua attività di sensibilizzazione a questi temi nei confronti dei giovani degli studenti come diceva prima ma soprattutto la ringrazio anche come come cittadino per tutta la sua attività di magistrato e di giudice quindi a nome anche di tutti coloro che ci hanno ascoltato insegnanti anche studenti eh la la ringrazio eh le auguro buon lavoro e grazie per questa disponibilità per questa per questa sua chiacchierata che abbiamo fatto piacevolissima grazie buon lavoro arrivederci